gli esami che prescrivo quanto costano come risaputo nella valutazione del rischio cardiovascolare nel mio modo di visitare di valutare il rischio cardiovascolare esiste la richiesta di alcuni esami ematochimici che vanno ben oltre il colesterolo totale i trigliceridi l'ldl e così via sono per carità parametri utili ma sono assolutamente obsoleti ovviamente quando io consiglio degli esami e mi rivolgo a tutta la popolazione mi viene chiesto giustamente a volte mi viene sottolineato che forse il costo è elevato visto che sono esami che non vengono coperti dal sistema di servizio sanitario nazionale non viene riconosciuto il rimborso di questi esami incredibilmente viene invece riconosciuto il rimborso di altri esami sono il colesterolo totale trigliceridi e così via quindi la domanda che mi si fa spesso è che questi esami effettivamente costano parecchio e che comunque non tutti possono permetterselo al di là di questo io ritengo che in realtà siano esami che assolutamente sono abbordabili da chiunque e che una volta almeno nella vita quantomeno insomma se non si possono fare più spesso sono da effettuare da realizzare d'altronde non nego che spesso senza togliere e accusare nessuno vedo persone che giocano a quei fantastici giochi di gratta e vinci milionario per un giorno artista per sempre eccetera eccetera spendendo decine di migliaia di euro per tentare la fortuna in questo modo c'è un altro modo per tentare la fortuna che è quello appunto di verificare il tuo stato di salute attraverso dei marchi sematochimici che possono essere importanti per calcolare il tuo rischio cardiovascolare che non sono il colesterolo totale e i trigliceridi certo il valore questi esami ce l'hanno ma non sono gli unici e non sono neppure gli ultimi ma andiamo al tasto dolente quanto costano qual è la cifra enorme che bisogna spendere per questi esami avanzati per la valutazione del rischio cardiovascolare non sono esami inventati da me magari nel modo più assoluto ma sono esami ematochimici che rappresentano il grado più avanzato di valutazione ematochimica del rischio cardiovascolare questi esami sono apolipoproteina b e apolipoproteina a1 entrambi valutano la frazione davvero pericolosa della colesterolemia e non il colesterolo totale non risentono dell'alimentazione questi esami costano rispettivamente apolipoproteina b 4 euro e 70 centesimi l'apolipoproteina a1 4 euro e 80 centesimi lipoproteina a piccolo un altro marker fondamentale di origine genetica che indica un rischio cardiovascolare se presente in grande quantità costo 10 euro 80 di roms e bap test per la valutazione del stress dello stress ossidativo quanto ammonta quanto è lo stress ossidativo nel tuo organismo riconosciuto ad oggi come fattore di rischio cardiovascolare e non solo di roms cioè radicali liberi presenti nel tuo sangue costo totale 20 euro bap test costo totale che è il potere biologico antiossidante endogeno costo totale 20 euro infine le ldl ossidate è forse il parametro ematochimico più costoso e la quantità di lipoproteine ossidate quelle lipoproteine che hanno la capacità di insinuarsi nello spessore dell'arteria e di creare la teroma è importante o no sapere quante sono per la valutazione del rischio cardiovascolare almeno una volta nella vita la risposta ovviamente sì il costo è di 100 euro 100 euro secondo i criteri più generali nella prezzistica dei laboratori in alcuni laboratori e in alcune circostanze il costo è dimezzato a 55 euro ad esempio io non voglio fare pubblicità nel modo più assoluto del mio operato ma io ho un accordo per cui questo esame viene un accordo con laboratori per cui mi permette di mandare queste persone e fare un esame a un costo ridotto tutto per garantire un vantaggio al paziente e poter fare un profilo ematochimico di valore sicuramente a un prezzo contenuto sono uno due tre quattro cinque sei per un totale incluso l'LDL a prezzo pieno di 120 40 50 di 160 euro 160 euro davvero mi trovo un po a sorridere a parlare di prezzi io che sono un medico e sono un cardiologo e ovviamente il dio denaro deve essere sempre allontanato dalle nostre visioni ed è così effettivamente ma questi 160 euro servono a garantire la migliore valutazione sotto il profilo ematochimico nella valutazione ripeto ancora questa parola del rischio cardiovascolare quindi è bene pensarci se vai a fare qualche volta un gratte vinci o un tentativo di vincere la fortuna magari gioca anche questa carta una volta almeno nella vita buona giornata